Iniziamo con il bambino che ha solo 2 anni e dimostrava un IQ 160 In adolescenza è stato come persona con intelligenza superiore alla media E già si è garantito un posto a Oxford Olivia viene considerato come la bambina Terminator La ragazza ha un'anomalia Ha il cromosome e gli permette di non stancarsi mai Ed è in grado di non mangiare e dormire per giorni La mamma di Olivia racconta che tanto tempo fa fu investita da un'auto E la ragazza rimane illesa e si è alzò come niente fosse Questa adolescente che porta sui social milioni di spettatori La ragazza ha delle caratteristiche insolite Per esempio gli occhi azzurri marroni E la pelle è molto scura E senza dubbio è una ragazza che si assomiglia di una persona di un altro pianeta Cristiano Ronaldo sembra che non gli ha trasmesso la passione per il calcio Il giovane Gianna Stara alla squadra dei allievi alla Juventus Cristiano Ronaldo Junior ha segnato 4 gol alla prima partita del debutto All'inizio si credeva che il piccolo Cristiano era il figlio di Cristiano Ronaldo E la sua ex moglie Yorina Ma alla fine si è scoperto che il piccolo è venuto al mondo da una badante di Manchester Con il quale il portoghese ha avuto un'avventura Per prendere in custodia il piccolo Ronaldo dovete pagare 10 milioni di euro